1.75 Forest Predding, chiusura di contrattazioni, il favorito. Si ritrae dal mezzo meccanico Far Away Viking, gli altri allineati, il galoppo di Flashback Noble che però rientra al volo e si parte alla corda Forest Predding, all'argo First Lady VL che si presenta subito per chiedere strada con Forest che è sempre intenzionato a restare davanti, allora First Lady prova a fermare per mettersi seconda, 14.7 di lancio, poi insiste nel suo attacco, l'invoca la curva, i due sono appariti dietro Faibana Jet e Flora Pax, passa First Lady proprio a pretto ai 400 metri in 31 e avanza Flora Pax, quindi Faibana, Flashback Noble e Far Away Viking a chiudere, attacca Flora Pax sulla compagna di colori e passa con spesa di 45.9, va a tabellone invece Flashback Noble, restano così in 5 con le due di scuderia al comando, in terza posizione Forest Predding, quindi a chiudere Far Away Viking, metà gara in 1.1 e mezzo con Flora, First Lady, Faibana che attacca anticipata da First Lady, a seguire vicino Forest Predding e Far Away Viking si arriva al chilometro in 1.16.8, Flora Pax, First Lady, Forest Predding, Faibana Jet, Far Away Viking, tutti ben raggruppati sull'ultima curva con First Lady che tiene ancora, con Flora Pax che tiene ancora la meglio sulla compagna, in terza ruota Faibana, di dentro senza spazio Forest Predding, lo stesso per Far Away Viking, le due scuderie vanno in mano, quindi non c'è lo spazio per correre per Forest Predding, l'attacco di Far Away Viking, Faibana Jet al centro della pista con Far Away che attacca, Flora che cala, è passata First Lady, passa a Far Away Viking, si libera a Forest Predding ma troppo tardi all'arco Faibana Jet, Far Away Viking, buona la prima per il team Lazzara davanti a First Lady, quindi Flora Pax e Forest Predding. 2.2 sul mio cronometro, siamo nell'ordine dell'1.16.2, successo di Far Away Viking che fino a questo momento era Maiden, la Muscle Viking del signor Michele Lazzara, per il 3 di Fratello Claudio, la guida proprio di Michele Lazzara, al secondo posto il 4 di First Lady, VL, per il terzo finiscono vicini ma Flora Pax ha mantenuto un leggero vantaggio su Forest Predding, 7, 4, 6 e l'odio di arrivo della prima di Siracusa. Quest'ultima l'ospite napoletana, l'altro televisore chiude favorita, 2.98, su Charlie Parker, 5.51, Dracula Jet in discesa, 3.52. Diversi soggetti di galoppo tra questi proprio d'arco De Gleris. e si parte. Lungo la corda Dracula Jet deve respingere ma poi da strada a Calis LL. Cavallo numero 7 squalificato. Detto fatto in terza posizione, a precedere Demetra Mani, veloce alla seconda fila, punta subito Charlie Parker all'esterno, seguito da Conte Bella e del Monica Matto. il galoppo di Clipper Gams. Cavalli che vanno sulla prima curva dopo lancio in 13.6, 400 metri di Calis LL in 27.9. Secondo sempre Dracula, Charlie Parker che avanza, detto fatto tenso davanti a due trameni. Cavallo numero 4 squalificato. Si va sulla retta opposta all'arrivo. Con i 600 metri percorsi in 43. e spiccioli passa Charlie Parker su Calis LL. Quindi ancora Dracula Jet, detto fatto DL, Demetra Mani a metà gara in 59 spaccati. Charlie Parker che stacca dagli avversari con Dracula Jet che agisce in anticipo. si porta ai fianchi del numero 5 Calis LL. 1.14 per il primo chilometro. Demetra Mani nel frattempo si avvicina, vada a parigliare in corda Calis. Charlie Parker è sempre davanti. Cavallo numero 2 squalificato. Deve avere anche Dracula Jet che muove dalla quarta posizione. Si fa ingresso in diritto all'arrivo con Charlie Parker. Di galoppo all'improvviso come l'altra volta è Demetra Mani. Quindi passa sul burro davanti a Domi Lasere che finalmente ha trovato da correre. Siamo ai 100 finali con Demetra Mani che deve arginare e Domi Lasere che si avvicina. Ma il traguardo è troppo vicino. E mette tutti d'accordo Demetra Mani su Domi Lasere, Dracula Jet e Terza davanti a Conte Bella e De Mostene. 1.58, 1.13.6. Il successo di Demetra Mani che ha usufruito del galoppo in zona poribita di Charlie Parker. Dopo una buona partenza con 14, quarta alla corda, ha avuto compito anche parecchio agevole. Al secondo posto conclude il 9 di Domi Lasere davanti all'1 di Dracula Jet. 3.30 la quota in chiusura di Demetra Mani. 14.9.1 è l'arrivo della seconda da Siracusa. Con gli altri che fanno partenza, soprattutto Edwin Thor ed Ercole Forest, insieme a Eleomeda Jet che si ritrae però. Ercole Forest sopra avanza Edwin Thor che comunque mantiene la figura in avanti, poi da strada a Ercole Forest. Lancio in 13 un filo scarso. Tezzo resta Emanuela Caffcaff davanti a Eleomeda Jet. A chiudere Emiro Clemar ed FB Geff. Colli affrontano la prima curva con Ercole Forest leader. 400 metri iniziali in 28. Edwin secondo davanti ad Emanuela e Eleomeda. Emiro Clemar ed FB Geff. Si va sulla retta opposta all'arrivo. Con Ercole leader a grande andatura perché i 600 metri se ne vanno in 42 scarsi. A tallonarlo Edwin Thor e Emanuela perde dei metri in terza posizione. Cosicché Eleomeda Jet adesso deve affrontare la risalita di Emiro Clemar. Si arriva a metà gara in 56 e mezzo. Da 1.10.6. Con Ercole, Edwin, Emanuela che adesso si ricongiunge. Eleomeda il galoppo di Emiro Clemar. Ai 700 finali. E il chilometro di Ercole Forest in 1.12. Edwin che spore dalla sua scia. Attacca e passa. Edwin Thor adesso è leader. Su Ercole che viene avvicinato da Eleomeda Jet. Quindi Emanuela ed FB Geff. Si fa ingresso e addirittura arrivo. Con Edwin Thor che allunga di scatto. Al suo inseguimento si pone Eleomeda Jet. Edwin è davanti. Eleomeda va a caccia. Prova ad agganciarlo. Siamo ai 300 finali. Edwin è sempre davanti. Eleomeda si avvicina passo passo. Edwin sembra poter controllare. Ma Eleomeda è aggressiva al suo inseguimento. Edwin e Eleomeda è ancora una volta una lotta a due. Con Edwin Thor che riesce a respingere tutto e tutti. E si impone a Eleomeda Jet. Ercole Forest ed Emanuela Caff Caff. Sul mio cronometro un tempo che dice 1.55. Che dovrebbe essere intorno all'1.11.9. Il successo di Edwin Thor ha parato a traguardo lontano anticipando tutti. Eleomeda Jet fa ancora seconda su Ercole Forest. Con cavalli che sono schierati dietro le ali del mezzo meccanico. 100 e qualcosa di più metri allo stacco della macchina. Si ritrae Boris Dio. Parte forte come il suo solito Canalis. Che in poche battute scende alla corda ma poi si getta di galoppo. E allora dall'estrema retroguardia c'è lo scatto di Zippo B. Che prende tutti di infilata. 13.5 di lancio. Zippo B leader su Desert Storm. Quindi alla corda del Finus precedere Ania Rich. Cavallo numero 2 squalificato. Quindi tutti gli altri chiusi da Diva Clemar. Ancora una volta incetta la partenza. 27.8 il primo quarto di Zippo B. Che precede del Finus all'argo Desert Storm Firm. Quindi ancora la corda Ania Rich. E 600 metri che se ne vanno in 42.6. E la presa di petto Zippo B. All'argo Desert Storm. In terza ruota Boris Dio che poi ripiega perché viene anticipato nella sua risalita. Si arriva a metà gara in 59.3. All'argo di tutti c'è lo scatto l'avanzata di Diva Clemar. Anticipato però nella sua risalita da Boris Dio. Il chilometro semmai in 1.14.4. Una terzia in avanti. Zippo Boris Dio e Diva Clemar. Con Boris Dio che perde qualche battuta. Di dentro rimontato del Finus. Resta sempre all'argo Diva Clemar. Zippo B chiamata a maggior impegno dal suo interprete. Lungo i paretti c'è ancora anche Tabor Caff. Si entra in ultrari arrivo con l'allungo di Zippo. Di dentro va Tabor Caff. Del Finus prova a svincolarsi. Diva Clemar che insiste in terza ruota. E in calo Zippo B. All'interno viene scavalcato da Tabor Caff. All'argo di tutti Diva Clemar. Ma Tabor Caff pia nettamente la meglio. Il traguardo è vicino. Tabor Caff ha messo tutti d'accordo. Per il secondo posto Diva Clemar precede il numero uno di Delfinus. E il numero sei di Zippo B. Uno cinquantotto e mezzo. Uno quattordici e uno. Il successo di Tabor Caff. Il colore della signora Antonietta a benemerito. Il training di Luciano Mancuso. Francesco Larosa Junior. Team che va in doppia. Dopo il successo di Bocanzi con Edwin Thor. Al secondo posto conclude il sette di Diva Clemar. Gran prestazione della FIA di Varenne. Con un chilometro in terza ruota. Il mio che si prospetta almeno sulla carta volante. Con la novità DJ Bar. La prima in Sicilia. La prima a Siracusa. Proveniente dalla Svezia. È una campagna che non è stata molto proficua. Ma qui dovrebbe cambiare la musica in Italia. E si presenta subito in questo centrale. Si parte. Cleo dall'esterno dello schieramento. Piglia in poche battute l'iniziativa. Davanti a DJ Bar. Allargo Artez su Zadig del Ronco. Quindi il 2 di Dallas Spal. E Candido Jet che inizia la sua risalita. 13 secco di lancio. Con DJ Bar che si presenta subito su Cleo. E ottiene strada. Priva dell'imbocco della prima curva. Con 400 metri che se ne vanno in 27 scarsi. DJ Clio Artez. Candido che risale. Zadig del Ronco. E Dallas Spal. Si va sulla rettopposta all'arrivo. I 600 metri di DJ in 42 e 3. Resta seconda Clio. Avvicinata da Candido Jet. Che chiude in corda Artez. Quindi alla corda segue Dallas Spal. Allargo Zadig del Ronco. Fase in ralenti. Per arrivare agli 800 metri. 57 e 8. Quindi c'è 5 di frazione. Con DJ Bar. Per il momento in controllo. Candido che comincia a farsi sotto. Seconda c'è sempre Clio. Davanti ad Artez. Zadig all'esterno. A chiudere Dallas Spal. Si accelera a 14.8 per arrivare al chilometro. In 1.12.6. Candido Jet. Chiamato a maggior impegno da Natale Cintura. Prova ad allungare DJ Bar. Che viene stappato da Gasper Eloverde. I due in testa a testa. Quindi Clio. Zadig. Artez e Dallas Spal tutti ben riuniti. E testa a testa tra i due più attesi. Con DJ Bar all'interno. E Candido Jet all'argo. Gli altri in lotta per il momento per la terza posizione. Con Candido che attacca DJ. Sono i due in testa a testa. Candido ai 100 finali. Sembra poter preparare. Candido Jet. Mette la sua firma in questo centrale. Davanti a DJ Bar. Quindi Zadig del Ronco. E Artez. 1.54.5 1.11.5 Il successo di Candido Jet. 2.29 La sua quota in chiusura. I colori sono quelli della scuderia Go Baby Go. Natale Cintura. Al training e alla guida. Del figlio di Igor Font. 5 al primo posto. 1 al secondo. Per il terzo. Termina il numero 1 di Zadig del Ronco. 5.3.1. E l'arrivo della quinta da Siracusa. In seconda fila. 8. Caffè Nero Arc. 9. Cadè. 10. Da Mita di Venere. 11. Carlino Weisel. In chiusura. 1.97. Black Block Allure. 4.63. Cade. 8.44. Se l'interronco. I tre soggetti più appoggiati. 100 metri. Allo stacco della macchina. Dall'interno a Zalea. Zimmicab. Cannibal F.I. Più veloci. Dietro il galoppo di Anubis. Black Block dall'esterno. Scende in poca battuta al comando. Davanti Cannibal F.I. Zimmicab. A largo da Mita di Venere. All'interno a Zalea Jet. Quindi ancora Carlino Weis. E gli altri attardati. Zapatarrab. E gli altri squalificati. Lancio in 13.4. Si affronta la prima curva con Black Block Leader. 400 metri in 28.6. 15.2 di frazione. Con Andrea Buzitta che ha tutto l'interesse di ralentare il ritmo alla gara. Cannibal in paria con da Mita di Venere. A precedere Zimmicab. Quindi ancora il gruppo che si va. sfilacciando. Adesso viene fuori un parziale in 15. Che porta i 600 metri a 43.7. Black Block sempre leader. Da Mita a largo di Cannibal. Poi ancora Zimmicab. Prova all'avanzata a largo. Il numero 8 di Caffè Nero Arc. Poi gli altri che provano a ricompattarsi. Siamo al chilometro 1.14.1. Andatura abbastanza comoda per il battistrada. Caffè Nero in terza ruota. Anticipato da da Mita di Venere. Senza spazio Cannibal e Fe. Zimmicab. Ancora alla corda. Cavallo numero 11. Con Black Block che conduce sempre in maniera tranquilla la gara. Si fa ingresso in dettura arrivo. Con Black Block che è dall'ultimo a lungo. Così Cannibal e Fe. Alla destra libera. Per poter sprintare sul leggero calo di Damita di Venere. All'interno Zimmicab. Caffè Nero in crisi. Lo scatto di Azzareaggetta al centro della pista. Va per via interna. Invece Zimmicab. Ecco Boccalauro non si prende più. Lo stacco in finale di Azzareaggetta che vale il secondo posto su Cannibal e Fe. E Zimmicab. 1.58. 1.13.7. Il successo di Black Block Alon. Cori e sono Bartolo Mangardia. Training e guida di Andrea Buzitta. Al secondo posto con gran finale al largo di tutti. Azzareaggetta precede Cannibal e Fe. E Zimmicab che finiscono vicini. Che comunque costringeranno il giù ci arrivo a richiedere la fotografia. Uno sguardo alle quote. In chiusura Estremo Oriente. 2.72. Favorito nei confronti di Epica Dagi. 3.44. E di Epopea Par. 4.19. Cavalli che imboccono addirittura apposta all'arrivo. 150 metri. Allo stacco della macchina. Prima fila. Ben allineata dietro il mezzo meccanico. E mezzo che comincia ad allungare. E si parte. Dall'interno resta davanti il numero uno di Estremo Oriente. Con Epica Dagi che ripiega subito nella sua scia. A largo rimane Elisiro Glory. E così si imbocca la prima curva. 15.5 di prima frazione. Con Estremo Oriente e Lidia su Epica Dagi. A largo è rimasto Eschimo Lud. In terza ruota prova invece l'avanzata. Il numero 8 di Elodie Jack. Cavalla che stiracchia un momentino. Scavalca tutti e si porta ai fianchi di Estremo Oriente. E così siamo al primo passaggio sotto le tribune. Con Elodie Jack che impegna Estremo Oriente. Ne viene fuori un parziale interessante. 600 metri in 47. Il galoppo di Elodie Jack. E allora Estremo Oriente può prendere un momento in mano. Anche se lo strappo non è stato indifferente. Gli 800 metri se ne vanno in 1 e 1. In terza posizione ha trovato spazio alla corda. Il 10 di Eschimo Lud. A largo si indusse Elisiro Glory. E poi tutti gli altri chiusi da Elfim Magic. I cavalli imboccano la penultima curva. Il primo chilometro di Estremo Oriente in 1 e 16 in allungo. Epica Daghi sempre seconda a precedere Eschimo Lud. Poi il 4 di Popea Parra e tutti gli altri. I 1.2 in 1.30 e mezzo. 14 e mezzo di frazione. Estremo Oriente ha allungato in maniera decisa. Ma non riesce a scollarsi di dosso. Epica Daghi che la segue da vicino. In terza posizione Eschimo Lud. Prova l'avanzata invece il numero 6 di Esplosive Griff che si trascina Ercole 3B. E così ci avviamo agli ultimi 600 metri. L'imbocco della curva finale con Estremo Oriente sempre al comando. Con un miglio trottato in 2-2 e mezzo. Epica Daghi che prova l'anticipo su Esplosive Griff che va ad attaccare il leader. Epica Daghi in mezzo. Ercole 3B a largo di tutti. E una lotta a 4 con Estremo Oriente che però alza bandiera bianca. su Epica Daghi che è attaccata da Esplosive Griff da Ercole 3B al centro della pista. Allunga Epica Daghi inseguita da Esplosive da Ercole 3B. Lungo la corda prova la difesa su Esplosive Griff che ci prova e ci crede. A largo ancora Ercole 3B va di dentro proprio a parra. Agguanta Esplosive Griff Epica Daghi con la trecittura che mette mano a comandare con la frusta. ed è sul palo Epica Daghi che respinge tutti i tentativi di Esplosive Griff. Con Epopea Parra terza davanti ad Ercole 3B. 2.48 e 3 sul mio conovato. Siamo nell'ordine dell'1.16 e mezzo sui 2.200 metri. Successo di Epica Daghi. I colori della Flores de Caneiro. Natale cintura al training e alla guida e al doppio in giornata dopo il successo di Candido Jet. Al secondo posto il 6 di Esplosive Griff precede il 4 di Epopea Parra. Quindi per un'ordine di arrivo che vede il 3 al primo posto, il 6 al secondo e il 4 al terzo. Il 5 al 1 di Pearl Pyro. Il 6 al secondo e ilлинere 1973. Abbiamo Livamo Rae a un'ordine di mettere l'euro. Abbiamo Livamo Rae a un'ordine di twinsa.